E' un buon punteggio, peccato davvero per quella caduta alle parallele. Adesso attenzione signori, è il bravato momento di Jed Carey. Vediamo se presenterà il doppio teso con due avvitamenti, penso proprio di sì. Ricorsa, Ronata Flick, doppio teso con due avvitamenti, eseguito molto bene, meglio anche del solito da un punto di vista di compostezza. Adesso dovrebbe presentare lo stesso salto con le gambe raccolte, Ronata Flick, Zuccar a teso, quindi lo stesso salto con un avvitamento in meno. Presenterà come terza diagonale lo Zuccar avvitato. Vediamo. Salto teso smezzato, Ronata Flick, doppio raccolto, un po' impreciso. Lei è in grado di presentare lo Zuccar avvitato anche come ultima diagonale, non credo a questo punto che lo presenti. Ronata Flick, Zuccar raccolto. Un po' impreciso l'arrivo ma comunque un esercizio dalle alte difficoltà e contenuto che le permetterà molto probabilmente di mantenere una posizione sul podio. Se in questo momento la Carey occupa non la prima posizione, è fuori per il momento dal podio. Vi ricordo che dopo la terza rotazione al comando Andrade, davanti alla Jones, poi le britanniche Kinsella e Gadirova. Alice D'Amato, ottimo il suo punteggio.